Sì, intanto ho ringraziato l'amministrazione di Soveria Mannelli per aver voluto ospitare questo evento, chiaramente al nome di tutti i sindaci del circondario. È un argomento per noi importante perché, come ho avuto modo di dire poco fa nel mio intervento, la ferrovia per noi è uno degli elementi di sopravvivenza di queste nostre comunità che sono sempre più soggette allo spopolamento. E come abbiamo avuto modo di dire con gli altri colleghi, quello che è un tema oggi di estrema rilevanza, che è quello delle aree interne, è strettamente legato al problema della viabilità. E quindi in un territorio che vede progressivamente diminuire tutta una serie di servizi, non si può rinunciare a quelle che sono delle conquiste che abbiamo avuto in passato e i trasporti ferroviari sono uno di questi. Mi sono approcciato a questa riunione, a questo incontro, con un duplice obiettivo. Da un lato quello di comprendere le motivazioni di questa chiusura momentanea, in modo da poter rapportarmi poi con i miei concittadini, e l'altro è quello di rapportare quelle che sono le istanze, le esigenze dei cittadini del territorio. Quindi prima di partecipare a questo incontro ho cercato di ascoltare un po' quelle che sono le istanze dei miei concittadini, molti delle quali sono venute spontaneamente attraverso mail, attraverso messaggi, perché avendo preso di questa partecipazione a questo incontro, hanno voluto spontaneamente rappresentare quello che è un problema che sentono come vitale, perché ci sono pendolari, ci sono studenti, ci sono persone che viaggiano quotidianamente su Catanzaro. Ho cercato quindi di fare presente quelle che potrebbero essere delle misure per cercare di mitigare il disagio momentaneo che stiamo vivendo. Sarà su un altro tavolo, quello regionale, che noi faremo sentire la nostra voce da sindaci per garantirci che si metta mano in maniera seria e in maniera decisiva su questa infrastruttura. ho appreso con piacere dello studio di fattibilità che è stato portato avanti al Presidente Oliviero. Mi auguro, e venerdì questo lo faremo presente nel tavolo regionale con l'assessore Musmanno, che ci siano dei tempi brevi per allocare risorse e per fare in modo che queste risorse poi possono concretizzarsi in interventi che diano risposta ai cittadini. Grazie a tutti.